Ci tenevo a ringraziare la società Bologna perché mi ha dato fiducia e è un orgoglio essere qui. Sono in una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano, quindi sono veramente contento. L'anno scorso ho avuto la fortuna di giocare in entrambi i ruoli. Mi sono piaciuti tutti e due, io penso che sia un bene poter fare tutte e due le cose, non mi piace dire, non mi piace fare più questo. Per me mio padre è sempre stato un punto di riferimento, sia da quando sono piccolo l'ho sempre visto giocare, l'ho sempre visto allenare e l'ho visto sempre come un esempio da seguire e per me il mio sogno sarebbe quello di superarlo. È normale che un figlio d'arte, come si dice, sia sempre paragonato al padre, però per me è un grande orgoglio. Sarà sicuramente un'emozione grandissima, non ho mai avuto modo di incontrarlo, quindi sarà la prima volta, anche per la mia famiglia penso sia un'emozione grande. Poi sicuramente ho un tifoso in più, perché mio nonno è tifoso del Bologna da anni, quindi dai tempi dell'oscurezza del 63-64, quindi in lui trovo un tifoso. Poi comunque sarà una grande emozione, non vedo l'ora di giocare quella partita. Mi affaccio una nuova realtà, quella della Serie A, ce la metterò tutta per mettermi a disposizione, per migliorare l'allenamento per allenamento e so che poi di conseguenza i risultati arriveranno, arriveranno i gol, le presenze e tutto.